Scusate l'interruzione. Stai bene. Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi. Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui? Il mio capo. Lui è diverso. Non te lo togli dalla testa? No. Mi serve il tuo aiuto. Sto arrivando, padrone! Senti che potrebbe ucciderti con uno schiocco delle dita. Non servirebbe neanche lo schiocco. Ok. Mi suona familiare. Sì, come? Renfield. Portami delle vittime innocenti. Voglio una manciata di suore. Un polmo in carico di cheerleader. Voglio di nuovo una vita normale. Ma il mondo moderno è un posto pericoloso. Tutti a terra! Sciù! No, 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 no. Grazie. Mi hai salvato la vita. Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata? È tutto un gioco di polso. Lascia che ti spieghi. È stato il mio capo a darmi questo potere. In cambio mi occupo dei suoi bisogni, inclusi cura, alimentazione. Mi procuri gente da mangiare. Sei tipo uno che fa consegne a domicilio per i cattivi. Se non provvedessi più ai suoi bisogni, che accadrebbe? Non arriverebbe al pieno potere. Esatto! Non arriverebbe al pieno potere! Cosa? Certo, è uno strano modo di esprimersi, ma è così! Ehi, ciao, sei qui per la riunione? Beh, entra pure! No! Per alcuni sono lo scuro, per altri il signore della morte. Per i più, io sono Dracula. Ok, ovviamente qui c'è molto di più del semplice narcisismo. Ora, mangiamo!